Solidarietà, vicinanza, ascolto. È con questi sentimenti che una delegazione della comunità senegalesi a Firenze è stata ricevuta nella sede della giunta regionale dall'assessore alla presidenza Vittorio Bugli. Una comunità sconvolta dall'orribile omicidio di un suo rappresentante, il vendidore ambulante IDDN. 54 anni, ucciso a colpi di pistola da un pensionato, che inizialmente voleva suicidarsi, ma che poi ha diretto l'arma contro un uomo innocente. Nel corso dell'incontro a Palazzo Strozzi Sacrati, la comunità senegalese ha potuto spiegare l'orrore e la disperazione suscitate da un delitto inaccettabile, troppo simile al duplice omicidio in Piazza Dalmazia del 2011. Siamo stati ricevuti veramente bene, accolti bene, sono stati anche molto aperti da ascoltarci, hanno preso tutto il tempo che ci voleva per spiegarci ciò che hanno deciso veramente da fare in questo caso, che sembra un puro caso, ma è un caso che io direi sempre premeditato, è appunto su quella, però lascio la giustizia fare ciò che deve fare. Però io gli ho spiegato, ben detto, che è ora che deve veramente finire, perché anche noi siamo stanchi e non possiamo essere sempre la sibia di un pazzo che esce da chissà dove per ammazzare un senegalese. È ora che questa cosa qua finisce. Purtroppo è già il secondo episodio grave che li colpisce e nella solidarietà poi anche fare in modo che una città come Firenze, una regione come la Toscana, questi episodi non debbano accadere e per far questo essere certi che vi sia la necessaria chiarezza da parte delle indagini, degli inquirenti. L'assessore Bugli ha consegnato alla delegazione una copia del post pubblicato su Facebook dal presidente della regione toscana Enrico Rossi per esprimere cordoglio e ricordare iddianne.